Si definisce una ragazza normale, ma la sua passione sono il volo e i lanci col paracadute. Nausicaa è una delle tante ragazze che si sono avvicinate a questo sport. La sua specialità è il free fly e ha già collezionato un numero considerevole di lanci. Sono Nausica Foroni, ho 28 anni e nella vita faccio l'impiegata. Mi sono avvicinata a questo sport tramite un tandem. Sono paracadutista da circa 3 anni. 3 anni fa ho fatto il punto del tandem e poi appena sono atterrata ho capito che sarebbe stato per lo sport che avrei fatto per tutta la vita. Il free fly è praticamente la disciplina in cui si può volare a 360 gradi. Praticamente si vola sulla pancia, che è il volo che ci insegnano con la FF, per poi passare alla schiena, seduto e in head down, cioè a questo in giù. Poi ci sono anche altri tipi di volo, come nel free fly, che sono il volo angolato, che è il flock, oppure il volo pseudo-orizzontale, che è la deriva. Ho 400 salti e faccio free fly da circa 300. Sto imparando grazie a diversi coach che hanno più alti di me, grazie ai quali riesco a imparare molte cose. Attualmente sto imparando ad andare in head down, che è una delle posizioni del free fly. Head down è la posizione in cui si sta testa in giù. È una delle posizioni più veloci, si raggiungono circa 350 km orari e a differenza di quello che si può pensare, che ci vuole un particolare fisico per fare questo sport, in realtà come potete vedere io sono una ragazza normalissima e lo pratico e sto imparando appunto quasi tutte le posizioni, quindi è uno sport che possono praticare tutti. In questo sport purtroppo ancora ci sono poche ragazze, perché mi piacerebbe molto fare una squadra in un futuro, è una squadra soprattutto tutta femminile e spero un presto di riuscirci perché vedo che in realtà alcune ragazze si stanno avvicinando, di andare ai campionati italiani e chi sta magari anche ai campionati, anche ai mondiali. Un saluto e ci vediamo in aria. Ciao a tutti. Salutiamo Naudica, ma